Sento che sempre fare un pasto come si deve. Wow, guardate, che bello! Possiamo assaggiare? Per cominciare diamo un'occhiata alle carte. Ok, io sono la più lenta. E io sarò la più veloce. Colocità a mezzo, mi piace. Ok. Non perdiamo tempo, sta iniziando. Penso che sia troppo veloce anche per me. Ecco, so cosa fare. Ecco, devo mangiare le caramelle così. Sì, così seleziono i colori. Fantastico. E poi uso la cannuccia. Che bella idea. Grazie, avevo ragione, mangiare con la cannuccia è molto più comodo. La mia lingua è gialla. Ma va tutto bene. Comunque presto diventerà di un altro colore. Fai vedere? Sì, è verde. Non sarà per molto tempo. Penso che alla fine sarà viola. Andiamo a vedere. È multicolore. Non me l'aspettavo di certo. Eh, se avete finito, allora vado io. Che bello. Mi piace. Dai, su. Dai che te le lancio, che così sarà più divertente. Ah, Jennifer, ma guarda, ma cosa facendo? Dai, su, è divertente. Ma io vorrei mangiarli. Oh, le caramelle sono finite. Così in fretta. Ho messo una corta. Ecco, è tutta colpa tua. E ho ancora molte strade da fare. Ho messo in bocca solo la prima caramella. Mi piace suplico. Sbrigati. Se no, invecchierò. Però aspetta. C'è io io. Ah, ho capito. Vuoi che la usiamo? Ah, grande idea. Siamo una vera squadra. Io non vi ho chiesto di aiutarmi. Sono mie. Cats, brincaci. Pronto. Non posso permettervi di rubare le mie caramelle. Le mangerò io stessa. Ma non è possibile. Troppo tardi non ce l'ho fatta. Ok, passiamo all'altro giro. Chissà, cosa ci aspetta questa volta? La Nutella. Che bella sorpresa. Dai, su, sbrigatevi. Ecco. No, sono lenta. Vediamo cosa io. Che bello. Io sarò la più veloce. Io ho tenuto il ritmo medio. Vabbè. Ok. Ah, ah. E' ardenzi. Oggi ho avuto fortuna io. Povera Kate. Avrà un periodo difficile. Va tutto bene. La passerà. A proposito, ho già iniziato. Ma sono staccolata la confezione. Devo... Ecco. Far così. Giusto. Le mie unghie mi hanno aiutato. Fantastico. Finalmente posso mangiare una Nutella così dolce. Guardati mia. Mi fa venire appetito. Non si può rimanere indifferente alla pasta di cioccolato. È il momento di accelerare il passo. Prendo di più. Non sembra più bello, eh. Non mi interessa. L'importante è che mi piaccia. Non ho mai mangiato così tanto Nutella una volta sola. È un vero paradiso. Ma guarda, sei tutta sporca. Ah, è tardi. Dai, su. Ti comporti come un maiale. Non riesco a guardarti. E allora? Non guardarmi. Smettere di instrarmi, Jennifer. Non vedi che sono occupata? Anch'io ho da fare. Devo aprire il barattolo. Però è complicato. Wow, un sacco di Nutella sulle mie mani. Dobbiamo leccarli via subito. No, il barattolo ha già finito. Peccato. Finirò quello che è rimasto. Non manca molto. Spero che sia tutto finito presto. Tra l'altro, grazie, Jennifer. È il tuo momento finalmente. Quanto tempo che ho aspettato questo. Non vedo l'ora di mangiare del cioccolato. Sono certamente felice per te. Ma sarebbe meglio se tu dessi la Nutella a me. No, 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 no. Hai già mangiato le tue porzioni. Ora è il mio turno. Ma che buono che è. Non ho bisogno di cucchiaio. Sì, ma Jennifer, guarda. Ecco il mio piano di riserva. Mangio così e nessuno mi vede. Ma cosa? Cosa è successo? Ma perché non scorre? Non capisco nulla. Sotto non ho capito nulla. Questa è la mia questione per ripetere il mio trucco. Grande. Ma cosa? Ma tengo una goccia. Che succede? Ho bisogno di concentrarmi bene. Buona. Ho capito tutto. Adesso le darò una lezione. Vediamo. Che male. Guarda che l'ho capito. Hai avuto quello che ti sei meritato. Ecco, finito. Quindi rimango solo io. Ma non c'è fretta. Non ho fretta. Per cominciare aprirò il barattolo. La mia pazienza sta per scoppiare. Non posso aspettare così tanto. Grazie per avermi aiutato, mia. Ma non siate così nervosi. E rilassatevi. Spero di poter gestire da sola. Dai no. Su, che ti aiuto io. Ecco, pronto. Vai, che è il tuo favore. Mangia. Come sei gentile, mia. Sei un vero amico. Grazie ancora. Dai su, mangia. Dai, è troppo vicino. Adesso la assaggio. Jennifer, svegliati. Dai su. Sento già il profumo e il cioccolato. Come va? Che finalmente hai assaggiato la nantella. Jennifer, torniamo indietro. Spera deliziosa. Grazie per l'attesa. Allora, dov'è il nostro cibo? Vedo il gelato. Che grandi che sono questi barattoli. Non vedo l'ora di vedere le carte. Eccoci qua. Io no, come una tartaruga. Vabbè, io sono quella veloce. E io quella medica. Vabbè, è normale. Vabbè, facciamo un rinfresco come si deve. Jennifer, potresti sbrigarsi? Ah, liberare il cucchiaio? Ne ho bisogno. Sì, certo. Dammi un po' di tempo. Ma cosa sta facendo, mia? Mi disperce, ma non ho tempo. Ecco, voglio mangiare il mio gelato. Ma cosa mi sei bloccato? Guarda, fantastico. Finalmente ce l'ho fatta. Sempre un ghiacciolo. Fantastico. Cosa c'è che non va in temi o niente? Sto bene. È appena arrivato un po' di freddo qui dentro. Ma la situazione è sotto controllo. E in qualche modo non ne sono così sicura. Oh no. Mia è completamente congelata. Non avrebbe dovuto mangiare così tanto gelato una volta sola. E cosa stai combinando, Jennifer? Ma la vuoi bruciare? È troppo pericoloso. Io preferisco usare un asciugoppelli. Posso muovermi di nuovo. Fermati. Fermati. Kate. Grazie mille. Il mio bruciatore a gas non è più necessario. Vabbè. Giusto. Inziamolo via. Ok. Visto che è finito così, posso provare il mio gelato. Inoltre, ho già un pianto speciale. Voglio farmi un cono. Sarà molto bello. Vedrete. Grande. Non mi aspettavo che fosse così buono. Wow. Che gelato enorme. Che hai fatto. Incredibile. Ma perché mi hai colpito, Kate? Probabilmente perché volevi mangiare il mio cono. Eh, sì. Con piacere. E invece? No. È mio. L'ho fatto io, quindi lo mangio io. Delizioso. Lo adoro. In qualsiasi modo lo si è che è buonissimo. Non dubito. Nemmeno per un secondo che lo sia. E' buonissimo. E' buonissimo. non preoccupatevi cercherò di non schizzare niente si è bagnata tutta ma era delizioso e il nostro primo pasto è fantastico wow la torta è così enorme ora è vero non morso riesco a rapida a tenermi no allora vediamo le nostre carte ecco prendete Alex ha ragione cominciamo wow io posso legare la torta e io posso dare un morso a quanto pare non posso fare nulla dannazione ma non ho intenzione di farlo lasciate almeno provare la crema è contro le regole giuli non puoi farlo che buono non osare a farlo di nuovo io posso legare che bello mi piace voglio ancora quanta crema posso legare all'infitto basta così Alex è il mio turno Mila ha ragione per oggi ne hai avuto abbastanza la crema vabbè dai almeno ci ho provato non so voi ma io sicuramente mangerò questa torta quant'è buona non riesco a fermarmi dai su dobbiamo fare qualcosa dai per favore possiamo provare ma certo che no non voglio condividere ah sì allora Mila taccio dentro lasciamo andare Alex hai la crema sotto il viso non è divertente ora anche tu avrai un po' di zucchero e questo è per te ha colpito giù le ditte negli occhi che ridere ma perché l'avete chiesto voi dai andiamo avanti abbiamo un nuovo piatto no apro io non posso credere ai miei occhi è un cactus sembra incredibile ho paura che sia troppo pungente ah che male non avresti dovuto toccare il cactus con le mani meno male che io non c'è rotto ecco ti aiuto grazie mille cosa farei senza idea Alex ecco così va molto meglio dai su si andate fuori le carte ecco a voi vediamo cosa c'è fantastico non dovrò toccare il cactus no di nuovo devo leggarlo e io morderò mi piacerebbe vedere dai vai avanti Mila ah no meglio tu no sono pronta a cedere a te no dai su no a te a te no basta così eh la mia testa sta per spaccarsi in due ok facciamo uno due tre beh non è che si vede proviamo giù le fantastico ho vinto finizia tu Alex ma perché l'hai proposta ah che male mi sono grattata la lingua guardate ci sono pure gli aghi ah ok era uno scherzo non è divertente giù leccalo di nuovo no di nuovo aspettate un attimo io ho un'idea dobbiamo rasare il cactus e non sarà così pericoloso dai su ok iniziamo alla modalità turbo bene funziona in questo modo riesco a gestire gli aghi eccoci qua ragazzi guardate funziona mi piace potrebbe essere ancora più bello dai posso essere anche un barbiere dai basta così eh ecco fatto ok dai scusate non volevo proprio così dai forza lecca finalmente il cactus dai va bene va bene non essere così nervosi non è difficile svolgere il compito ora ecco fatto vabbè tocca a me devo farlo presto a dimizzicare molto amaro non mi piace affatto è così divertente di guardare mira cosa ne pensi mi dispiace Alex non ho potuto farne a meno ah ci serve una lezione ecco il nostro nuovo piatto vediamo cos'è è un enorme lecca lecca fantastico wow è così grande spero di poter almeno leccare da miscogliamo bene che bello posso mangiare lecca 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 go posso pe care e io neanche provarlo non è giusto dai su smettimi dai vado per prima No, Alex, inizio io! Eh, no, eh! Cosa? Ma perché? Giulio non riesce a morderlo! Cosa stai facendo? Credo che sia imbazzita! Non riesco comunque a romperlo! Vedremo! Prendo un martello! Cosa stai facendo Giulio? Dai, su! Ma non è possibile! Ehi, frantumi! Il tuo piano è completamente fallito! Dammi il lecca-lecca! So come gestirlo! Potrei leccarlo! Oddio! Ecco, sembra che ci avrà un po' di tempo! Non so più cosa fare! Magari fare il manicure fatto! Caccia dopo! Ok, faccio il pisolino! No, non funziona! Alex, dai, su! Asceleriamo! Milari, dammi il lecca-lecca! Ecco, vuoi rietarti? Ecco, fatto! Oh, che bello! In questo modo lo mangerò ancora più velocemente! Fantastico! Si sta arricchendo! Ecco, non è rimasto molto! Posso mangiarlo! Dammi il lecca-lecca! È così piccolo! Eh, potevi almeno ringraziarmi! Grazie, Alex! Che diavolo è questo? Vabbè, lo provo! Ma c'è anche una gomma! Che bello! Ecco! Avrei potuto averla io! Giulio, non dovresti fare le bolle così grandi! No! La mia bolle è scoppiata! Alex! Tu avrai ragione! Ah, Giulio si è impigliato nella gomma! Ma... Credi che ci sia puzza di marcia? Eh, credo che la puzza provenga da sotto il coperchio! Vediamo! Giulio ha ragione! Che schifo! Cos'è? Un pesce! Vabbè, dai, cominciamo! Oh no! Io devo alleccarlo! Io dovrò morderlo! Niente! Sono felice anche e viva! Ah, la mia testa! Oh, non credo ci sia motivo di essere allegri, Mila! Dai, stai così nervoso, Alex! Lasciami iniziare! È meglio che quel pesce non si avvicini! Hai cambiato l'idea sull'eccarlo? Non va bene! Ok, ok, dobbiamo rispettare le regole! No, no, non voglio! Preferrei non l'eccarlo il pesce! Perché no? Perché ho paura? Dai! Ci proverò! Alex sta solo in mare! Dai, ci sta solo aiutando a portare a termine il compito! Non ti ho chiesto aiuto! Ecco, ora tocca a te! E non la passerai liscia! Ma perché l'hai fatto giù? L'hai disgustosa! E ora si impari, Alex! Puoi immaginare? Guarda! Non ha chiuso l'armadetto! Scopriamo cosa c'è dentro! Sembrano delle casforze! Crede che dentro ci sia qualcosa di costoso! Guardiamo! Fermi! Dove siamo? Crede che questa sia una sfida! Ok! Apro prima la casaforta! La mia è tutta sorridente! Non male! Una torre di pop it! Che bello! Bello! Non è la parola esatta! E' il momento di fare pop per rilassare i nervi! Che bello! Perché sono così morbidi? E perché questo buon olore? Ci sono! Sono gommosi! Sono così tanti! Posso mangiarle tutte subito! Fermarsi è difficile! Posso mangiarle tutte subito! Si è fermata! Probabilmente per noi! Così possiamo assaggiarle! Le altre sono miei! Che male! Come on! Ok! È il momento di sperare cose che mi aspetta! Qualcosa di molto morbido! Sono dei vermi! Non ne mangerò mai! Guarda come strisciano! Tutto a posto sono volati via! Ok! Volati via! Così non mi aiuti! Io voglio mangiare! Allora... Crede che questo possa aiutare? Mangerò subito i vermi! Anche quelli che ammazzano i bocchi! Sei buffa! Ma lo trovo! Perché hai messo le tue labbra? Devo mangiare questo verme! Basta! È pronto! Certo che è pronto! Le labbra sono pronte! Mi prendi in giro? Allora perché non provi anche tu questi vermi deliziosi? Prendi! Sono all'interno! Che schifo! Ok! Calma, zi! Guarda cosa c'è in realtà il tuo casaporte! Nella casaporte c'è una porzione che mi aspetta! Spiro che mi trasforma in una rana! O in una verba! Spiro che mi aspetta! Trano! Non sento niente il universo! È tutto compito! Mi sta... No, no, no! Mi sono sceglie qualcosa! Ragazza, aiuto! Crede che la porzione abbia funzionato! Ora sono da me sceglie la vostra mano! Ecco, ci rimezzi a posto! Guarda che carina! Ehi! Chi vuoi mordere? Ha fatto male! Mi occupo io e te! Combatterei contro un vero serpente! Pensi che sia spaventata? La metto fuori gioco in due secondi! Mi chiedo, chi vincerà? Non lo so! Ma penso che il verme sia più forte! Verme! Lo sconfitto! Prendi questo! E questo! Ha vinto per davvero! E cosa ne pensate? È stato un bel combattimento! Hai detto che forte che sono! Sì! Questa volta prendo io la cosa buona! Quindi avrò per prima! Il mio cocktail preferito! Perché aspetto? Bevo! Strada! Perché non gocciola? Stupida bottiglia! Come hai fatto a non capire? Ti faccio vedere come si mangia! Tu! Allora? Prendi questo! Non ti darò il mio cocktail! È mio! Posso berlo da sola! Che ave di che sei! Mi vendicherò! Imparerai a dividere con gli amici! Eh! Cosa hai fatto? Ora sono tutte bagnate! Potevo bere l'intera bottiglia! Pensavo fossimo amiche! Solamente la Diana apre la cassaforte! Cosa? Un pesce! Oh no! È normale che non è nostra! Puzzi tantissimo! Ma tu le devi mangiare! Sono regole! Ok! Lo so! Adesso la assaggio! È orribile! Non è troppo! Non ce la faccio! Non le mangio! Oh no! Non vuoi? Ma sono regole! La devi mangiare! E va bene! Lo faccio velocemente! Ho finito! Che schifo! Dove posso rinno a una lisca? Vieni lontano da me! Mary! Avrei la tua cassaforte! Con piacere! Che cosa? Una qualche specie di chissitos? Le amo! Ma perché è così piccola? Il sapore è normale! Bellissimo caramella! Sono contenta! Guardate! La caramella sta crescendo! Posso provare! Che bella! Posso provare? Certo! Guardate! Anch'io sono ricoperte le caramelle! Tiano! Ne vuoi? No! Grazie! Non voglio mangiare i tuoi burfoli! Apro di nuovo per prima! Credo che tutti siano d'accordo! Capisco questo regalo! Non si hanno mai abbastanza efe! Guardate che belle queste foto! Ne voglio anch'io! Posso fare le foto? Vabbè! Non rovinare il mio scatto! Dammelo! È mio! Voglio fare una foto! Ragazze! Basta! Datelo a me! Dobbiamo decidere di chi sia questo! Per il momento ci trovo io! Come hai potuto? Dammelo! È mio! Cosa hai fatto? È il mio telefono nuovo! No! Oh! Non credo che sia per il meglio! È tutto colpa di nuovo! Cosa avete fatto? Ora non ho più un iPhone a spazzatura! Sì! Intratene occupi! Io apro la mia casaforte! Trano! Perché è vuota? Vediamo cosa c'è! Ok! Oh no! Una rana! Ho paura! Aiuto! Togli la mano della testa! Non mi sarò questo animale! Caraggia! Salte via da qui! Perché io? È la tua rana! Ma la devo mangiare io? Mai! E se fossi un principe sotto un'ingantese? Allora diventerei una principessa! Devo controllare! Ok! Cosa è il problema con te? Allora il tuo pritoprincipe? Devo controllare io! Che cosa strana! Cosa ci devo fare? Non lo so! Cosa faccio io con la rana? Non vorrei farti arrabbiare ma la rana si è trasformata in una roccia! Roccia? Strano! Ma perché è marrone allora? E' cioccolata! Non è cioccolata! E' delizioso! Ascolta! Magari puoi fare qualcosa per il mio telefono? Vediamo! Ha funzionato! Che bello! Ora ho la cioccolata e un iPhone! Molto buono! Questo cappello è da indossare? Posso indossarlo? Oh! Niente! Ora ho una Mary cioccolato! Inizia mangiandole le dita! No! Non lo fare! Togli il cappello e tornerà alla normalità! Proviamo! Grazie! Mi avete salvato! Pensavo che sarei rimasto cioccolato per sempre! Questa volta e oggi aspeto da me! Spero che ci sia qualcosa di veramente buono! Oh! Un hotel! Amo! Voglio mangiarmi il barattolo! Oh! Scusa la caricia! Volevo mangiare il tappo! Ok! Non vuol dire che puoi colpire qualcuno in testa con quello! No! Dai! Non si arrabbiata! Sono solo felice della nantella! Sono sicura che la nantella è super buona! Ho ragione! E' anche più buona di quando pensassi! È mia! Ne è rimasta una goccia! Tu ce l'hai sul naso! Io ce l'ho sulle mani! Sì! Lo vediamo! Sei ricoperta! Hey! Ora devo andare più a fondo! Oh no! Mi si è incasata la mano! What? La sottella deve mangiare di meno! Non ridete! Aiutatemi! Clarice! Tira il barattolo! Ci sto provando! Coraggio! Ce la possiamo fare! Ce la puoi fare! Tira! E' viva! Adesso ho un barattolo di nantella! Mangiamo più velocemente! Sto bene? Non mi preoccupate per me! Sono viva! What? Avete mangiato tutto? Ancora cioccolato! Posso mangiare veramente la mia mano! Ok! Mentre tu mangi io vedo che cosa ho! P.U. Qualcosa ti faccio? P.U. Oh no! Il formaggio! P.U. Sottentamente sì! Lo voglio mangiare anch'io! Ancora aiuto! E' così cattivo! Meno parole più mangiare! Vai! Come on! P.U. P.U. Cattivo! Sì, sembra proprio cattivo! Lo è! Non riesco ad ingoiarlo! E' troppo cattivo! Anche? Ok! Sì, ho fatto! Ula la! Come on! Ora vediamo cosa ho io! Dobbiamo andarcene! No, è un polpo che schifo! No, perché lo devo leccare? E io dovrò morderlo! E io sono finata! Posso solamente ridere! Dai su, decidiamo chi va per prima! Oh, che bello! Viven ha perso! Io credo che segno che lei sarà la prima a leccare il polpo! Oh, è divertente! So di essere sfortunata! Che schifo! No! Ma è viscido! La mia lingua! Guarda com'è! Basta! Capita! Tocca a te a morderla! Ma tu non hai potuto leccarla! Come faccio io a morderla? Spero che non mi mangi! Ma guarda com'è! Ecco così! Vuole mangiarmi! Aiuto! Dai, non preoccuparti! Ci serveremo! Dai su, ci saremo fuori da la sua grimpia! Ah, che male! Almeno abbiamo, sì, combattuto col polpo! Sì, è stato terribile! Non ho mai così tanta paura! Avresti dovuto vedere la tua faccia! Sì, guarda che ricordi! Come on! Oh no! Stiamo di nuovo sfortunati! Però spero di non essere sfortunata! Perché? Ma perché sono così sfortunata? Io dovrò leccare, fare ancora più male! E io posso riposare! Ecco... Dai su, mangi! No! Dai per prima! Eh, guarda se lo mangi Peter, tu non avrai nulla da leccare! E spero di essere... Ah! No! Che male! Come faccio a lecarla? Eh, non posso anche tocarla! Eh, dovrei comunque! Ok, prima lo faccio, meglio è! Oh no! La mia povera lingua! Che male! Ah! Non vuole neanche guardarti! Forse posso aiutarti! Ho dei cerotti! Così! Com'è? Ti aiuta? Spero che... Ti salverà quando... Non lo mangerai, non è dubito! Ma hai un'altra idea! Posso mangiare il cactus in un altro modo! Io ho delle pesette e posso togliere tutto quanto! Ma lo farò in eternità! Sì, mi sono già staccata ad aspettare! Però almeno mi farò normale! Basta! Ecco, questo ti aiuta! Sarà più veloce! Ecco! Oh sì, certo! Come ci sei arrivata! Sei un genio! Adesso vado! Così! Hmm... Andiamo! Bene, bene! Funziona! Ottimo! Ancora un po'? Ho finito! Basta! Guarda! Cos'hai fatto? Ma... L'hai detto... Tu di... Raterla! Eh... Dai! Mangia! Così! Vai! Mangia! Ho finito! Ho finito!